Ciao a tutti e ben ritrovati in un nuovo video con Vimi su Genshin Impact. Proseguiremo subito con... Tagnolino! Ciao! Proseguiremo con la quest principale di Mondstadt. Dovrebbero esserci tutti forse. Eccoci qua. Sì, sono qua. Jean? Aspetta. Ma tu sei Vimi! Eh... Jean? Beh, per prima cosa ho contattato varie persone. Secondo, she came here as Jean herself, not as the acting Grandmaster. In secondo luogo... In secondo luogo, è qui solo come Jean, non come Granmaestra Regente. E infatti è la tua Jean. Jean you would never see, even as an honorary knight. Che sorpresa! Ho sentito della Lira Sacra, ma non avevo mai sospettato di te. E così il suono della Lira Sacra può purificare il terrore alato e farlo tornare alla normalità? È vero. È vero. Esattamente. Vimi sta facendo del suo meglio per tentare di risolvere la questione di terrore alato. Va bene che è difficile credere a questa assurda spiegazione. Possiamo chiedere al bardo di suonare di nuovo per provare a persuadere. Vi credo. Eh? A persuadere la nostra testarda comand... Eh? Cosa? Non trovo alcun motivo che giustifichi il tradimento di Devalin. Dato che in passato era addirittura uno dei quattro venti. Se è stato avvelenato nella battaglia per Monstad così tanto tempo fa... E poi corrotto dal mago dell'abisso al suo risveglio... Non possiamo sicuramente incolparlo. La gente penserebbe che io non capisca più la gravità della situazione. Ecco perché mi è possibile parlarne solamente in privato. E' uno dei motivi per cui non mi piacciono i cavalieri di Favonius. Quello che mi stupisce è che tu creda così facilmente a una straniera. E ho già detto di non chiamarmi signore. Lascia stare. Non ci capiterà poi così spesso di lavorare insieme. Fingi di non aver sentito. Signore? Fingi di non aver sentito. Ehi. 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 Questo sì che è imbarazzante. Solo imbarazzante? A me sembrava anche tenero. Sono carini insieme questi due. Ho una vaga idea di dove si trovi la lira sacra celeste. Ah sì? Dove? Eh già. E' brava a cambiare. Il conflitto tra Mondstadt e... Non riesco a pronunciarlo. E' la città del dio mi sembra Krio. Credo. Nasce dallo scontro tra le sette nazioni e i rispettivi dei. I Fatui del dio Krio. Ecco infatti. Sembrano puntare ai poteri del dio Animo. Quindi vogliono prendere il controllo delle difese di Mondstadt. Quindi vogliono uccidere Valin. Esatto. Se i cavalieri di Favonius impedissero pubblicamente un attentato alla sicurezza di Dvalin... Allora... L'unico modo per influenzare i poteri del dio di Animo è quello di impossessarsi della lira sacra. I Fatui sono giunti a Mondstadt in gran numero. Sono già riuscito a... Estrapolare qualche informazione. La lira sacra non si trova nel Grand Hotel Got. Io immagino che non vogliono lasciare qualcosa di scontro in un posto dove potrebbe essere così facilmente trovato. Uh uh uh. Hi Man gets it! Se troppo di una scena viene fatto, diventa una grande problematica di diplomatica. Eh già. Non bisogna... fare nessun errore. Questa è la diplomazia tra le sette nazioni. Direi... Non tanto brillante. Protoniera, sei pronta ad andare? Ehm... Ah sì? Credo che sono pronta. Ok. Questo assomiglia tanto allo stesso luogo di un'altra missione. Non mi ricordo quale. Recupera la... Serve il fuoco e il vento. Ok. Devo cambiare i personaggi? Mi serve il fuoco e il vento. Ok. I personaggi principali. Dovrò usare... Ember. E il vento. Oh! È vero! Sono di Luke! Questo? Ok. Ehm... È che devo spegnere quel... Ah no? Corri! 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 Ok. Ok. Ho sprucciacchiato Kaya! Ma scusa! Potevo lasciare Barbara! Il fuoco l'avevo con di Luke! Ma sono completamente decereblata. Ok. De cereblata. Sì, decereblata. Ok. Fa niente. C'è qua dentro? C'è qualcosa qui? Ahà! Ah! Ah! Posso usare... Di Luke! Ciao! Ehm... Mi piace la spadora che... Eh... Colpisce anche quando non mi... Precisamente. La spara tra l'altro. Posso dare un'occhiata? No! Non voglio... Eh... Personaggi! Posso dare un'occhiata? La tua arma? Trapasso... Ululante. Mmm... Il livello... 24. Un sacco di stelle. Posso dare un'occhiata ai tuoi manufatti? Ma... Mi ha messo cose base! Cuore del coraggio? Ok. Ok. Che bello! Posso dare un'occhiata... Al personaggio in sé? Approfittiamone finché si può! Ah! La sua... Costellazione. Posso vederla? Ok. Oh! Non potrò mai averti... In questo momento. Odiamocelo finché... Si può! Oh! Quello? Ehm... Salve! Ehm... Nooo! Sono il tuo incubo peggiore! Sì! 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 Sono qui per la lira! Come hai fatto a sapere... Che la lira è qui? Ehm... Come hai fatto a sapere... Che... 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 mi sa che devo aprire la porta usando la chiave qua è la porta ok vediamo un po' di qua c'è qualcosa lì e anche là c'è chiusa ok esamina un cavolo c'era un cavolo letteralmente vai sei potentissimo devo scendere c'è l'altro qua esamina un ravanello va bene c'era solo la verdura qui verdura e un paio di slime bruciacchianti un po' in su salve buongiorno wow non sapevo che chiamava quel coso appena l'ho visto senti fatti da una mano al fratello no è stato divertente qualcosa qui no niente c'è anche un baulino della bauli siamo dei mediatori dell'associazione per lo sviluppo delle relazioni tra i due paesi non abbiamo niente di cui parlare lascia perdere facciamo così mai sentita nominare e voi che ci fate qui vogliamo prendere in prestito la lira sacra ma siamo qui in qualità di mediatori per qualcosa sei indagato per corruzione senti facciamo tagliamo la corta tanto in un modo o nell'altro la prendiamo e come pensate di prenderla in prestito va bene tanto ti avremmo preso a calci comunque ah no no lui a lei so far 48 let me amuse myself a little better i'm better sto risparmiando la Q per quando si arriverà più avanti forse se saprò utilizzarla ok ma non c'era nient'altro neanche qui sto risparmiando le Q per quando saranno utili sempre che saprò utilizzare quella di di look che so che serve giusto un pochino di mira ma questo ci pensa il fratellino eh ok 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 ti è perdendo un po' di vita look mangia un ospedino va mangiamo qualcosa un bello scherino di look meglio pronti apriti salamino ha funzionato sei un salamino un ascensore si sale al piano superiore troveremo tante botte appunto ho già beccato vediamo un po' l'ho fatto volare no no l'ho spostato che stupida che sono stata vai lisa ci manca poco che è attimo lavoro di squadra ecco la lira abbiamo fatto fuori già ok fatto tutto o non c'è più di look che peccato era bella verlo in squadra vabbè ho sempre kaya eeeh lui c'è sempre nanà torna a monstatt Eri, eccoci Grazie Eh, eh, già Grazie di poter Non so se funzionerà Ha quasi esaurito il suo potere Ah È davvero importante in questo momento Non credo, eh Ma, anche lì La lira in sé funziona Ma le corde Non so come si ripara uno strumento Parli di me Non so come si Rilassati Non serve a ripararla È solo che l'intensità del suo potere di animo Si è notevolmente ridotta Vimi Hai ancora con te La lacrima di cristallo Sì Ottimo Ottimo Prova a usarla Sulla lira sacra Eh Lascia che ti dia un'occhiata È diventata bianca Ha funzionato Come è previsto Oh È ancora più bella di prima Che splendore giovanile Ti fai complimenti da sola Davvero Parlavo della lira sacra Grazie a Vimi Che ha purificato il cristallo La lira sacra Smetterà di perdere potere Detto ciò Il suo potere Non è ancora stato ripristinato Dal tutto Ci farebbe comodo Trovare altre lacrime E aiuteremo noi Vero? Come facciamo? Possiamo far piangere Davalyn in qualche modo Magari col pendolo Aiuteremo noi Come possiamo trovarne Delle altre? Immagino che Davalyn Sarà già piangendo Da solo Immerso nel dolore In un luogo Desolato Davalyn Davalyn Poor baby Eh eh Questo non è un compito Che una cavaliere onoraria Può risolvere Da sola Chiederò aiuto Agli altri Cavalieri Una volta Ok Ci penso io Eh già Una grande emozione Mi piace tantissimo Lasciate che componga una canzone In vostro onore È tutto quello che riesci a fare Una canzoncina Vai mo A volte sei molto Così Così Non varrei granché Come bardo Se non riuscissi a fare nemmeno questo No? Ti meriti proprio un soprannome bruttissimo Vai mo Basta Basta Così da? L'ho presa? Un momento prego Un momento prego Cocchietto C'è il occhietto C'è lisa Quindi qua ci metto Noelle Ok con Amber Avevo usato la stessa tattica Di sempre Ok Devo far fuori Il signore Qui Ehi Robotone Salve Non si è congelato Ora si Ah Ah vai 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 Noel eeeh uff massacrato voglio sempre dire ma io non pensavo che avremmo trovato lacrime di Dvali in un luogo del genere bravi devo andare qui dentro forza dell'aquila lacrima nascosta nel cuore della giunga oh oh le polverizzato adesso oh salta non potevi arrampicarti di lì vai fuori gli slime ok oh c'è un coso esplosivo perfetto meno male avevo lo scudo ah è qui pensavo che eri sparito subito ok oh 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 Non è difficile! Perché prima faccio poi quello così non mi spara. Ecco fatto. Adesso devo andare là. Ma vuole? Oh, fai fuori il mago! Fatto! E' la voce che se ne va. Fatto! Oh, un mago! Ha ha! E voilà! Scusate ma c'è la voce che ogni tanto se ne va se si sente male. E tu cosa sei? Abbiamo finito. Che sudata! Eh già. Non è da escludere che i Fatui vogliono farlo fuori subito. Fatui ha recentemente proclamato a te persona non grata. Pfff! What an honor! Nessuno ha mai proclamato persona grata da Fatui. Fatui? The diplomatic delegation from Shneznaya? What if they got against Master Diluc? Fatui are problem not only for the Knights. They also present a real threat to the whole of Mondstadt. And when it comes to threats against Mondstadt, Diluc is... Diluc... In prima linea. Andrei... Unica... Unica! Ah, tu è la. Unica! C'entra a trovare la faccia di Kroslim. Unica! C'entra a trovare la faccia di Natura. C'entra le faccia di essere dietro al Garnassino. C'entra! Eh già. Intanto prendo qualche risorsa. Come sempre. E qui? E là? Tra la la? Ehm? Mi sa che è là sopra. Io si riesco a prenderlo senza... Riuscirò a prenderlo anche senza affrontare i mostriciattoli? A quanto pare sì. Eh? Ah non c'è la lacrima. Ah era per farmi notare che c'era? Non lo so. Adesso? Mostra la navigazione. Devo andare. Qui? Andiamo a casa di Diluc. Casa. Un attimo. Perché sono qui. Andiamo a vedere se magari non posso... Due ne ho recuperate. Ok. Sto andando bene. Arrivo. Scusa, Kaya che è il più veloce corridore di Monster. Forse... Forse... Magari c'è qualcuno ancora più veloce. Ah per me è per ora lui. Eccomi qua. Non posso bloccare. Ah, tutti qua? Salve Salvino! Siamo tornati! Evviva! Mettiamo assieme i nostri cristalli. Sospito. Sospito. Dammi una mano un po'. Faccio subito. Metto un po' di amuchina. Mmm. Interessante. È come filtrare del vino. Un processo... Rinfrescante. Ora passiamo. Allora passiamo. Sistemiamo la lira una volta per tutte. Ehm... Ancora più bella di prima. Splende... Di bene. Ha funzionato! Sembra completamente diversa rispetto a prima. Sembra essersi ripristinato del tutto. Ora dovremmo riuscire a utilizzarla. Adesso lo grazie. Ah, ma non ho fatto niente di particolare. La domanda ora è... Dove evochiamo terrore alato? Eh, già. Magari qui al vigneto? Ma sei matta? Eh, già. Eh, già vuoi mandarli in fumo... L'ho raccolto? Serve un posto libero... Mare... O punti più alti. Giusto? Il miglior posto per suonare la lira allora sarà... Un promontorio. Vicino al mare. In cielo potresti suonare mentre sei sull'aliante. Un promontorio. Se prosegui a est dal lago stellare, a sud della spiaggia, troverai delle montagne. Oh! You mean the beach you were snoring away on and Paimon had to wake you? Eh, la spiaggia dell'inizio. If you head to where the cliff juts out, that place is known as Starsnatch Cliff. Promontorio a Chiappastelle. What do you think, Bard? It meets the requirements, no? Let me think. Starsnatch Cliff. Eh. All right? Let's do it there! Very well. Bene. Let's meet at Starsnatch Cliff when we're ready. Please don't be late. Non fate tardi. Va bene. Perfetto. Va bene, siamo d'accordo. Ci incontreremo tutti al promontorio a Chiappastelle. Però io direi che per evitare l'allungamento del video, per ora mi fermerò qui e proseguiremo nel prossimo video. Se il video vi è piaciuto, lasciate tantissimi mi piace, commentate, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima! Noelle vi aspetta. Ciao ciao!